Una delle più spiacevoli complicazioni della febbre è la convulsione febbrile. Essa è dovuta ad una anomala risposta del sistema nervoso centrale del cervello all'aumento della temperatura e colpisce circa un bambino su 20, quindi è un problema piuttosto frequente nell'età compresa fra i 6 mesi e i 5-6 anni di vita, quindi l'età prescolare. È una reazione anomala alla febbre che non indica una particolare malattia, non indica nemmeno il rischio di una epilessia in senso stretto, tuttavia è un evento molto spaventoso soprattutto per il genitore o comunque per chi accudisce il bambino ed assiste a questa situazione. Infatti il bambino perde improvvisamente conoscenza, gira gli occhi, può avere la bava alla bocca ma soprattutto sviluppa la convulsione, quindi diventa tutto rigido, può avere delle scosse, delle contrazioni ritmiche delle braccia e delle gambe, perde naturalmente coscienza, appunto perde contatto con l'ambiente esterno. A volte può avere un respiro particolarmente rallentato, non diciamo non normale, può avere un iscurimento, una cianosi della zona intorno alla bocca e in alcuni casi anche può perdere feci oppure urine. Che cosa bisogna fare in questi casi? Naturalmente la prima volta che la convulsione febbrile capita di solito è un evento inaspettato ed è molto difficile da prevenire, invece quando essa dovesse capitare una seconda volta o comunque dopo il primo episodio di convulsione febbrile, il modo migliore per trattare questo problema è quello di prevenirne le cause di comparsa e cioè la febbre e per questo motivo dovrà essere fatto un attento e adeguato controllo della temperatura corporea evitando che essa salga troppo in alto, quindi salga al di sopra di 37,5-38 gradi, iniziando la somministrazione dei farmaci oppure le terapie fisiche della febbre già quando il bambino presenta un livello di temperatura corporea intorno ai 37,5 gradi misurata al livello dell'ascella. Può tuttavia succedere che il bambino sviluppi comunque una convulsione febbrile che allora in questo caso adesso andremo ad imparare come si utilizza il diazepam rettale, cioè la benzodiazepina, il farmaco sedativo che utilizzato come un piccolo clisterino può nel caso in cui il bambino abbia una convulsione febbrile interromperla e permettere al bambino di rilassarsi per poi essere eventualmente valutato dal suo pediatra per decidere se è il caso di fare degli ulteriori accertamenti oppure se il problema si è risolto in questa maniera. Come vedete è una piccola perettina che ha un beccuccio piuttosto lungo dove abbiamo due tacche, una prima tacca circa a metà e poi la seconda tacca alla radice, all'origine di questo beccuccio. La prima tacca è per i bambini più piccoli fino a tre anni di vita, la seconda tacca invece si riferisce ai bambini più grandi nelle modalità che adesso fra poco vediamo. Il microclisma, come si dice in termine, come si chiama in termine tecnico questa ampollina, deve essere aperto ruotando il suo cappuccio, il suo tappo di plastica, ecco qui, e adesso è pronto per la somministrazione. Vedete che all'interno è contenuto il farmaco che è in forma liquida, quindi pronto per la somministrazione a livello del sederino, cioè per via rettale. Il nostro bambino dovrà essere posizionato a pancia in giù, come adesso vi faccio vedere con il nostro bambolotto, eccolo qua. Il sederino in aria e l'ampollina, il microclisma dovrà essere inserito nel sederino in questa maniera qui, arrivando fino alla prima tacca, come vedete, nel bambino piccolo fino a tre anni, oppure andando più in fondo nel bambino più grande. Essendo il nostro bambolotto un bambino molto piccolo, noi ci fermiamo alla prima tacca. A questo punto dobbiamo spruzzare completamente il contenuto all'interno del corpo del bambino e tenere le natiche chiuse in questo modo per alcuni secondi dopo aver sfilato il microclistere. In questo modo eviteremo che il liquido fuoriesca dal corpo del bambino, dal sederino del bambino, vanificando la nostra somministrazione. Dopo pochi istanti, dopo pochi secondi dalla somministrazione di questo farmaco, la convulsione sicuramente cesserà. Il bambino potrebbe riprendere ad essere vigile per poi magari piangere e poi riaddormentarsi, oppure passare direttamente in una fase di sonno che durerà vari minuti, anche alcune ore e che si descrive come sonno post-critico, cioè il sonno dopo la crisi convulsiva. Questo è un momento in cui il cervello del bambino è messo a riposo, anche per l'effetto farmacologico della sostanza del diazepam che abbiamo appena somministrato e che permette in qualche modo al bambino una ripresa del suo stato di funzionamento normale che era stato messo in difficoltà dal manifestarsi della crisi convulsiva. Qual è il momento corretto per somministrare il microclisteri di diazepam quando il bambino presenti una convulsione febbrile? Sicuramente non immediatamente, perché la maggior parte delle convulsioni febbrili si risolvono spontaneamente nell'arco di poche decine di secondi o di pochi minuti. Il nostro consiglio è di attendere due o tre minuti momenti nei quali possono essere fatte delle altre azioni molto importanti anche successivamente da riferire al medico. Prima di tutto è opportuno controllare se i sintomi del bambino, se i movimenti del bambino sono simmetrici, cioè da una parte dall'altra del corpo in maniera simile. Quindi se il bambino ad esempio muoverà le braccine in questa maniera, oppure se una soltanto ha delle scosse dei movimenti e l'altra magari rimane flaccida lungo il corpo. Un'altra cosa importante da notare è se il bambino ha gli occhi girati verso l'alto da tutte e due le parti, oppure se ha gli occhietti girati da un lato rispetto all'altro o la testina girata da un lato rispetto all'altro. Anche questo è un segno importante da riferire al medico. Notati questi piccoli aspetti che richiedono a pochi secondi, l'altra cosa importante da fare è di mettere il bambino su di un piano orizzontale. Se non abbiamo nulla di meglio è opportuno metterlo per terra su un tappeto, in modo tale che a causa dei suoi movimenti non debba ad esempio cascare, cadere da un letto, cadere da un fasciatoio dove potremmo averlo appoggiato. Altrettanto importante è, se si è da soli in casa, di chiamare aiuto. Chiamare aiuto perché qualche altra persona, un vicino di casa, un'altra persona, un familiare presente in casa, possa venirci ad aiutare ed eventualmente chiamare il soccorso attrezzato del 118 se non abbiamo altra possibilità di far portare il bambino in ospedale. Mentre svolgiamo queste semplici attività molto importanti, passano alcune decine di secondi, passa il primo minuto, il secondo minuto. A questo punto dobbiamo pensare che la convulsione, se non si è ancora risolta spontaneamente, possa richiedere il trattamento farmacologico che abbiamo appena visto. Ecco che allora ci ricorderemo dove abbiamo custodito la scatola con le nostre fialette. le andremo a prendere, dobbiamo ricordare che questi farmaci devono essere tenuti dove va il bambino e cioè nella stanza dove lui riposa o nella casa dove lui normalmente soggiorna, naturalmente non alla sua portata ma in un luogo dove gli adulti siano a conoscenza della sua esistenza. Prenderemo il farmaco, cercheremo di mentalmente ricordare la sequenza che abbiamo appena imparato e a quel punto sarà passato un altro minuto, probabilmente, quindi il tempo sufficiente per pensare che se non si è risolta ancora spontaneamente, la convulsione è opportuna che venga trattata. Naturalmente il consiglio più importante, per quanto questo sia un quadro sicuramente molto spaventoso per il genitore che vi assiste soprattutto la prima volta, il consiglio principale è quello di mantenere sempre la calma, perché dobbiamo ricordare che la convulsione febbrile nella pressoché totalità dei casi non è un evento che mette a rischio la sopravvivenza del bambino, in quanto è un evento che si risolve spontaneamente, tuttavia devono essere praticate alcuni semplici accorgimenti come quelli che abbiamo appena visto insieme. L'ultimo, il più importante è il seguente, se il bambino dovesse essere lasciato per qualche secondo da solo, perché magari dovete andare a prendere il farmaco, perché dovete chiamare al telefono l'aiuto di qualche persona vicino a voi e non avete nessun altro che lo può fare al posto vostro, ricordatevi di mettere il bambino, se è già in situazione più tranquilla, se non ha più scosse, se è più flaccido, in posizione laterale di sicurezza. Questa è una posizione che si ottiene semplicemente girando il bambino su di un fianco, in questo modo qui, il nostro bambolotto adesso è un po' rigido e aiutandosi eventualmente con un cilindro, con un cuscino, con un cilindro di stoffa, appunto con un cuscino o con un altro appoggio, favorendo in questa maniera una posizione di fianco che aiuterà il bambino ad eliminare eventuali secrezioni, catarro, muco, saliva dalla sua bocca, evitando così un pericolo di tosse, di soffocamento che viceversa in posizione supina potrebbe verificarsi. Espletate tutte queste manovre, il bambino è stato messo nelle condizioni migliori per poter essere trattato adeguatamente e se la situazione non sia risolta potremo passare al trattamento farmacologico che abbiamo appena visto.